Con il numero 4 è Notaris, con il numero 96 è Hayek, con il numero 7 è Ganao, con il numero 22 è Gerardi, con il numero 1 è Levan, con il numero 11 è Mula, con il numero 6 è Petretti, con il numero 13 è Raccaduto, con il numero 34 è Masetti, con il numero 12 è Sabini, con il numero 14 è Tedesco, allenatore tedesco. Con il numero 3 è Gianni Puntabini, con il numero 5 è Matteo Camina, con il numero 6 è Davide Puntabini, con il numero 8 è Giulio Nardo, Con il numero 9 è Rinaldo Ceroni, con il numero 11 è Daniele Rossi, con il numero 22 è Giacomo Sani, con il numero 14 è Matteo Fogli, con il numero 16 è Gisiele Rossi, Con il numero 17 è Patrizio Tassinari, con il numero 19 è Tedesco, con il numero 20 è Andrea Dallaglio, con il numero 23 è Matteo Camina, con il numero 32 è Manuele Pogli, Allegatore Colorini, allegatore come il punto di view, ringrazio Tassinari, Angus NSF, amicano l'incontro, lì signora Zanchinella di Trento e Terza Giulbolevo. A tutti un buon divertimento, A tutti buon divertimento. Mauro 13 è quella di Imp generals, Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 . . a tutti. 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 a tutti.